15.054 segnalazioni arrivate in sei mesi e di queste il 70% ha trovato una soluzione. Sono i numeri del nuovo URP digitale del comune di Pietrasanta, introdotto ad aprile dall'ex amministrazione Mallegni. Un front office online che sembra proprio aver abbattuto i muri tra cittadini e municipio. Tra le novità introdotte, le schede con semafori. Il verde per l'inserimento della segnalazione, il giallo per ricordare che l'intervento non ha ancora avuto risposta e il rosso quando la scadenza, il massimo è di 30 giorni, è ormai alle porte. E poi la mappa dei bisogni per raccogliere le segnalazioni dei cittadini che saranno inserite nel piano triennale delle opere. Nuovi marciapiedi, impianti di illuminazione, asfaltatura o infrastrutture viarie come rotonde e strade. Insomma richieste dei cittadini che non possono essere vasi dentro 30 giorni. È un sistema che consente di fare segnalazioni online oppure direttamente per telefono o direttamente sul posto. Le segnalazioni vengono monitorate e gli uffici hanno l'obbligo di dare una risposta in tempi stabiliti precedentemente. Tutto questo rientra poi nel sistema di valutazione dei dirigenti competenti in funzione dei tempi di risposta ai cittadini.